sapete a volte no il destino quando droppate degli oggetti che sembrano dire usami usami ma tu li ignori per un po' intendiamoci il fucile d'assalto che sto usando il no più più che si troppa nei cartelli è fortissimo di suo ma questa build come tante altre armi lo potenzia e non poco one clippato come si dice ne ho droppati diversi esemplari non solo dai boss specifici ma anche facendo fuori i criminali dai cartelli che esponono ogni tanto uccidendo mob in qualunque area per moz ricordate colpi consecutivi consacrazione da ricercare poi su tutte le armi e per moz oddio sui lanciarazzi anche il p 125 per cento danno splash non fa schifo e anzi e infatti qui sto proprio usando un bug burner con quella consacrazione ecco perché entro poi subito riesco da corso di ferro colpi più era difficile notarlo ma qui stop il bug burner non esiste nella variante per due spara sempre un solo proiettile eppure qui io ne sto sparando due raddoppiando il danno dell'arma ancora due ancora due è essenziale che lo scudo sia carico al massimo infatti ora il proiettile è uno solo e nonostante abbia fatto davvero centro forse un paio di volte col doppio proiettile gli effetti sono stati clamorosamente devastanti dobbiamo tutto questo allo scudo infernal wish si droppa in botte bottino poi penso di dedicare se non la seconda parte questo video un video tutto suo per il farming degli oggetti più importanti per questa build e alla caratteristica quando è al massimo di aggiungere un proiettile ad ogni colpo per non renderlo troppo op ogni tanto si aggiunge al personaggio stesso uno stack di autocombustione insomma ci si incendia e bisogna stare attenti è perché diversamente si fa anche alla svelta in mezzo al casino a finire in lotta per la vita anche perché gli stack si possono accumulare facendo sempre più danno mi ricordo un po come funzionamento la più bella arma secondo me di destiny il tocco del male sparava facendo un gran danno ma ti sottraeva energia poi la scheda dice che l'effetto si azzera con nuova energia ma a me sinceramente non sembra spesso mi metto in un cantuccio ad aspettare e lo stack di autocombustione si esaurisce in modo spontaneo vediamola in azione con la chaos on abbinato con il mod blood letter che come perk ha il 50% mi sembra di danno critico in più con le armi dal come la chaos on che dire notevole tenendo conto poi che ne sono certo un cecchino qualcuno con la mano e l'occhio più fermo del mio mi accontento e anche il custode che ne ha presi tante ma davvero tante ad un certo punto non ne ha potuto più e ora timato cavron ehi ma dove vai ma stai un po fermo ma dai così non vale che ti ha insegnato a farle schivate non mi becchi non mi becchi non mi becchi ora i più maliziosi potrebbero pensare che lì sotto ci sia la custode lasciamo perdere va dunque si diceva che è essenziale con questa veglia tenere lo scudo sempre al massimo ma nessun cacciatore della cripta sa di generare gli scudi come mods quindi ho sfruttando un pochetto di fortuna avete visto che non mi sono subito auto incendiato se andate a rivedere il video e magari aiutandosi mettendo qualche punticino nella skill sottile linea rossa per aumentare gli scudi e quindi anche con l'autocombustione resistere di più e terminare il boss situazione che permette poi di sfruttare mod potenti come il mind sweeper più adatto per i boss appunto e qualche manufatto come si deve non l'elemental projector come stavo provando qui perché poi ho capito che in realtà l'autocombustione non attiva l'elemental projector sarebbe stata una roba OP elevato all'OP peccato e allora che so la perda della conoscenza per dirne una combinazioni che vanno benissimo per boss come custode capitan tronte l'agonizer insomma dove non ci sono troppi mob ma non va bene per una strage maliwan o strage dei guardiani o lo shaft e allora come poi vi mostrerò meglio con calma togliersi i punti da sottile linea rossa cambiare un filino la build e abbinare un mod blood letter con un manufatto deathless guadagnando non solo resistenza ma rigenerando costantemente gli scudi e sfruttando per più tempo possibile il perk dell'inferno al wish già sfruttabile con quali armi sostanzialmente due tipologie quelle che sparano un proiettile solo tipicamente i lanciarazzi molto potente raddoppiano di fatto il danno poi ce ne sono alcune che ne sparano magari nove come il flipper ma che contano come se fossero una perché sono non elencate nella scheda non c'è un per nove e lì vuol dire avere un flipper che spara con diciotto proiettili di nuovo raddoppio del danno giusto per citare qualche armetta eh plasma coil ma dai era già l'arma più forte backburner uno dei lanciarazzi più potenti surrender free radical ma stiamo scherzando flipper caoson gargoyle la creps l'opq chiudiamo in bellezza con il complex root direi che io inizio solo a scalfire le possibilità che sono aperte a tutti i personaggi vediamo cos'altro ho usato io qui con il custode il mind sweeper e ho comunque tenuto questo elemento al progetto perché guardate un po' i perk danno armi pesanti più 20% danno incendiari più 20% meno male che è soltanto un livello 57 e meno male che me lo sono tenuto come granate andrebbero molto bene nei cloning hunter seeker beh qua ho usato questi piece 60 per avere il buff garantito comunque da queste granate certo intanto qua sta scorrendo l'albero con le skill non mi danno quella interazione con la skill vampiro che però io non so non mi sembrava mi curasse in effetti leggendo qua e la anzi se qualche vero moz che sta ascoltando sapesse di bachi magari solo per xbox che non fanno sempre processare quantomeno la rigenerazione dell'energia della salute quando le granate fanno danno e se hanno punti in vampiro ce lo faccio sapere e adesso per dire una cosa importantissima per questa build tanto qua diventano chiarissimi i due proiettili l'inferno al wish ha un baco nel senso che per farlo funzionare appena si entra in gioco bisogna la prima volta suicidarsi lasciarsi proprio morire invece al massimo si può andare in lotta per la vita e schiacciare il tasto per morire rapidamente e il suicidio va ripetuto le volte che si esce al menu e si rientra in gioco beh non è una grossissima limitazione e neanche una grossissima scocciatura tutto sommato qui tanto sono nella strage maliwan in modalità easy cioè non vera strage sto provando la free radical ma soprattutto la chaos on corrosiva che funziona da dio qua come evidente dal più uno nella salute sto già usando la combo blood letter e deathless qui la combinazione dei danni subiti che comunque è notevole anche se non è vera strage e l'autocombustione spesso era la fine volta che ci provavo e non è ancora l'automatismo giusto per lanciare orso di ferro quel secondo prima per evitare questo beh mi hanno portato a morire parecchie volte però alla fine ho superato la sfida in modo piuttosto ease devo dire è facilissimo uscire poi vittorioso da lotta per la vita se non doveste avere i gradi guardiano a sufficienza per aver attivato quel perk che praticamente vi raddoppia il tempo con cui la barra di lotta per la vita si abbassa giocate un po' più safe andate magari nascondervi dietro i cubi sparate la distanza con plasma coil o l'opq è fantastico dalla media e anche lunga distanza davvero anche perché qua in mezzo al casino è un po' dura mantenere lo scudo a paletta e esultare l'inferno al wish e dovrei un attimino rivedere un po' le mie tattiche a occhio direi che qua converrebbe indossare un bel revolter e a quel punto qualche combinazione di minesweeper e qualche altro manufatto vabbè era proprio una prova si confermo invece che con i mob in modalità non vera strage nelle fasi che hanno preceduto valkyrie comprese dove l'azione è un po' meno frenetica si riesce a sfruttare abbastanza bene l'inferno al wish anche la versione corrigida della chieson è promossa a pieni voti sempre con la consacrazione colpio conseguente ma la sensazione nonostante le innumerevoli lotte per la vita è di avercela fatta in modo abbastanza easy ma così non può funzionare per la modalità vera strage abbiamo bisogno di qualche cosa in più e quel qualche cosa in più c'è ma ve ne parlerò nel prossimo video che dedicherò come dicevo al farming anche dell'oggetto mancante uno che tiene drop e poi vi mostro la build che ho usato per questa run oltre a quelli che vi mostro c'è anche un redistributor in più radioattivo con danno radioattivo aggiuntivo come consacrazione le armi sì ho provato diverse sostanzialmente avrei potuto fare tutto il takedown solo con la plasma coil che è veramente una roba incredibile le ho rollate tutte o trovate con colpo consecutivo blood letter come dicevo è un 57 ma mi interessavano quei perk danno arma comunque elevato colpo critico più 51% per dal e atlas e cioè che ozon e opq per il manufatto addirittura il livello è 50 per questo deathless ma guardiamo meglio intanto c'è un più 17% che per l'opq è manna ma 40% per rotta della vita è altrettanta manna per me poi come flash melter ha un incremento il danno corrosivo con degli stack che si possono accumulare fino a 5 volte man mano che succedono i nemici con danno corrosivo e avete visto quanto ho usato la chaos per cui è un buon manufatto secondo me con questa combinazione le hitspies e poi vediamo l'albero delle skill tolgo il manufatto così è più facile seguire i punti e qua chiudo il video spero di ruovarvi per il prossimo con il farming e un giretto in modalità vera strage magua